Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo con un nuovo video di Minecraft, signori, e allora come potete vedere... Allora, no 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 no, partiamo dal principio in maniera corretta. Signori, prima del video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto che date a serie al canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Io ce la sto mettendo tutta, signori, l'importante è anche... spero anche nel vostro sostegno, signori. Basta semplicemente un clic sul tasto dell'iscrizione, un bel like e un commentino tecnico e tattico se vi va. Perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno, signori. Quindi mi raccomando, ho bisogno del vostro supporto perché... per raggiungere quell'obiettivo che non sarà un punto di arrivo ma un punto di partenza, signori. Detto questo, come potete vedere nelle nostre mani abbiamo due totem, signori. Nello scorso video, nel video di ieri, abbiamo ammazzato due evocatori e quindi abbiamo due bellissimi totem che ci conserveremo in maniera secretissima. Non li sfrutteremo mai, penso, decisamente mai. E questo, niente, signori, è decisamente nulla. Allora, cosa facciamo nel video di oggi, signori? Nel video di oggi ci manca di esplorare l'ultimo livello della magione, l'ultimo piano, signori. L'ultimo piano lo andremo a esplorare oggi. Io sento ancora dei mostri, quindi da qualche parte qualcuno ci deve essere. Però in tutto questo noi abbiamo un inventario troppo pieno, signori. Questa cosa non mi dà fastidio, questo inventario troppo pieno, che se poi magari capita di poter prendere qualche altra cosa, non la prendiamo. Perché abbiamo tutte queste cianfrusaglie che non ci servono a nulla. Blocco di lana, sì, vabbè, ci portiamo tutto. Poi faremo una cernita successivamente. Poi vedremo di fare una cernita. Questi ce li teniamo pure qua, in bella vista, insieme ai bellissimi totem. Facciamo così, la mappa ci serve poi per il ritorno. Nel video di domani, che andremo a esplorare tutta quanta la zona, così metteremo tutta la mappa bella, visibile. E blocchi di terra, mettimeli qui a portata di mano, così una cosa qualsiasi possiamo costruire velocemente. Ok. Andiamo con l'ultimo piano, signori. Ultimo piano della maggiore da esplorare. Che andremo a esplorare in questo video di oggi. Ok. Forse era lì dietro che c'era qualcosa di interessante. Può essere? Perché io continuo a sentire ste cazzarati mostri? Ma non vi siete rotti le palle di stare qua dentro? Cioè, ho ammazzato tutti. Ho ammazzato tutti e dovete ancora rompere le palle. Uh. A chi glielo dici? Uh. Eccolo là. Uh. Mister Accetta. Mister Accetta dell'anno. Zio, vieni qua. Vieni qua che ti do una spadata in mezzo ai denti. Dai così. Stiamo calmi. Stiamo calmi. Occhio al cibo. Occhio al cibo. Occhio alla barra della fame. Mi raccomando, non facciamo cagate. Allora. Io non so se quei due sono altri due evocatori. Perché se quelli sono tutti evocatori, siamo un attino nella merda. Sì. Quelli sono evocatori. Mannaggia a lui e a chi non te l'ha detto pure. Perché ho chiesto? Io ho paura di quelli là dietro, signore. Io ho paura di quello là dietro. Però andiamo veloce e rapido in dolore. In maniera così violenta. Aia. Ha fatto la spirale il bastardo. Io ci sono passato proprio dritto per dritto. Bastardo. Allora, conquistiamo questa zona prima, signori. Conquistiamo una zona. Una zona. Quello gli abbiamo già tirato una spadata. Quindi dovrebbe già essere mezzo morto. Dietro non so cosa ci sia. Puntiamo nuovamente all'evocatore. Che ci manda nuovamente gli spiritelli bastardi. Altro totem per noi, signori. Tanta roba, tanta roba. Ah no, lui l'aveva l'accetta. Aia, 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 aia. Confusione. Confusione tecnico-tattica. Sulla costiera di destra. Mannaggia. No, 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 no. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Momento di pausa. Calma, calma, calma. Stiamo tutti tranquilli. Una alla volta. C'è spazio per tutti, signori. C'è spazio per tutti. Le casse sono aperte. Portate i vostri prodotti alle casse. E sarete tutti quanti soddisfatti. Ok, il tuo cazzarole è quel cazzarole uccellino volante. Maledetto che non sei altro. Devi morire male pure tu. Ah, porca miseria. E che cosa? E che cosa c'è? I prodotti in offerta, praticamente. Che sono partiti tutti così schizzati. Indemoniati. No, non ti puoi mangiare lo shulker box, zio. Ti devi mangiare la crostoletta di carne. Bravo. Allora. Abbiamo ripreso un altro totem? Tre totem. Signora... Aia! Uccellini di merda. Mannaggia a voi. A chi non ve lo dice pure. Vieni qua. Vieni qua. Non scappare là sopra. Vieni qua. Ehi, ehi. Dove sei? Dove sei? Bastardo. Dove sei? Dove sei? Come se le testate... Sti cosi invece di difendermi non fanno un cacchio, signori? Poi svolazzano. Svolazzano per i fatti loro. Dove sei? Dove sei? Vieni qua. Vieni qua. Come cazzo l'ora è morto? Scusa, non volevo. Cioè, l'ha ammazzato lui? Non lo so. Qualcuno l'ha ammazzato, signori. Noi siamo contenti di questo. Ok. Riprendiamo da dove eravamo arrivati. Eravamo in questa zona. Allora, quello è un altro evocatore sicuro. Questi sono zombie che sta a fare la comparsa. L'hanno pagato per dire vieni qua, fai qualcosa. Allora, quello è un altro evocatore che io vorrei inizialmente evitarmi. Ok. Altri standardi per noi. Qua sotto forse c'è qualcosa. Dimmi che c'è qualcosa qua sotto e non sto distruggendo il... Aia! Dove sta l'uccellino? Perché muoiono da soli? Non capisco questo piccolo particolare. Perché muoiono da soli? Prendiamo gli standardi. Ma questi sono semplici. Ma sono brutti quei. Ma che cazzo non hanno neanche gli standardi giusti, sapete? Dico che quantomeno fate fateli tutti uguali. Standardo nero, no. Non avevano voglia di fare degli standardi uguali. Dovevano semplicemente fare degli standardi uguali e non ci sono riusciti. Ora, attenzione che qui ci sta l'altro evocatore. Torcia. Tagli così. Mannaggia. Mannaggia. A chi non te lo dice. Ma vatti a coricare. Ok. Ci ha dato gli smeraldi. E un altro totem. E degli uccellini di merda da ammazzare male. Uccellini di merda da ammazzare male. Wee! Sì, ve lo faccio pure io. Wee. Però prima fatemi mangiare. Perché sennò siamo messi male. E voi mi fate più male a farmi wee. Con la carota non li puoi di sicuro uccidere. Ti serve un coltello. Ti serve una spada. Wee! So carini perché fanno wee. So divertenti. So simpati. Se non ti volessero ammazzare praticamente. Se non fosse che ti vogliono morto. Potrebbero essere anche degli animaletti carini da compagnia. Wee! Ok. Abbiamo ristabilito un attimo la pace e la serenità nel mondo? Sì. Qui ci sono gli standardi che ci servono. Signori, recuperiamo gli standardi. Grazie. Stando 1. Stando 2. E stando 3. Questi sono quelli che stiamo a collezionare, signori. Poi dove i cazzaroli dobbiamo mettere non lo so. Però li stiamo a collezionare. Ne abbiamo altri 3. Bello così. Ok. Quindi qui abbiamo bonificato la zona. Cosa cazzarola è successo? Laggata terribile. Va bene. Non ha importanza. Calma. Io ho paura di qualche creeper. Aia! Aia! Scheletro improvviso. Ma io secondo te ho ammazzato gli evocatori. Ma posso avere paura di uno scheletro che mi fa... Tu sei una comparsa. A te ti hanno pagato, anche a te, per partecipare a questa puntata. Qui è tutto libero. Sì. Sento però un tizio con l'ascia. E la cosa non mi piace. Abbiamo messo... Oh! E io ti sento. Tu fai uh! Io ti sento. Però ti devi far vedere. Tutto questo non so se ci sono casse e cose varie. Però va bene. Chi è? Perché sento tutti questi rumori strani? Ultima stanza, signori. Ultima stanza della nostra magione. C'è un tizio con l'accetta. E basta. Boh, mi aspetti solo tu. Ma porca miseria. Ma un po' di... Non ho nessun altro? Dai, comunque ci siamo portati a casa quattro totemi dell'immortalità, signori. Porca miseria. Tanta roba. Ci siamo portati a casa quattro totemi dell'immortalità e quarantaquattro smeraldi. Direi che non è niente male. Niente male. Quasi quasi mi porterei pure qualche libro, signori. Dici, ma che te ne devi fare? Eh, dovremmo fare la farm di Enderman, signori, se ci arriviamo con le tempistiche. Quindi, sapete, un bel paio di libri, quando avremo un bel po' di esperienza, può tornare utile. Signori, abbiamo conquistato la magione. A parte quello scheletro lì che vuole un duello alla Legolas e lo avrà. Perfetto. Lo avrà ed è morto. È morto sognando il duello alla Legolas. Signori, abbiamo conquistato la magione. È tutta nostra. Non... Non ci sono altre... Altre situazioni. Magione conquistata, signori. Ci vediamo questa fila di libri. Che secondo me... Sì, vai, 57 libri, penso che ci possano abbastare. Questa carne zombie la possiamo anche lasciare insieme a questa accetta che... Tra l'altro... Da dove cazzo non è spuntato quel Creeper? Che cazzo non è? Spuntano così a caso? Ma stiamo scherzando? Cioè... Mi sembra un po' esagerato cadere dal cielo. Che cazzo non è? Neanche se fosse aperto il tetto. È invece spuntato così, dal cielo, dal nulla. Va bene. Allora, io per se per notti metto un'altra torcia lì. Sta calando la notte. Quindi io direi quasi quasi di farci anche una bella dormita. Così. Resettiamo un po' tutto. Signori, la magione è stata conquistata e bonificata. Bella così. Bella. Lì metterei il mio lettuccio qui. Dove sta il mio lettuccio? Dai, è così. Qui proprio in mezzo. Così. Dai, è così. Dormiamo. Resettiamo tutto. Mettiamo un nuovo punto di rinascita. Così anche quando dovessimo uscire il Phantom non romperanno le scatole. E... Ci siamo, signori. Abbiamo conquistato tutto. L'unico dubbio che ho è se dietro il faccione qua dietro si possa celare qualche cosa. E noi ora andremo un attimino di violenza. Signori, non possiamo lasciare tutta la magione sana. Eh, che cazzarola. Io ricordo che c'era un blocco d'oro da qualche parte, ma non ricordo dove. Per caso sei qua dietro il nostro blocco d'oro? No. Andavamo in una stanza che avevamo già visitato. Perfetto. Va bene. Almeno ci siamo levati il dubbio, signori. Anche perché... Comunque, signori, se voi avete dei suggerimenti, scrivetemelo. Perché anche nel video di domani faremo un video molto leggero. Domani sarà un video molto leggero in cui andremo semplicemente a esplorare tutta quanta la zona per riempire tutta la mappa in modo tale da poterla piazzare successivamente a casa nostra in maniera completa. Quindi faremo semplicemente il giro di tutta quanta la mappa per vedere se troviamo anche qualcosa di interessante e per fare qualcosa di buono, diciamo di buono. Io continuo a sentire come se ci fosse un portale del nether. Ma non so dove sia. Cioè, sento questo rumore sottofondo come se ci fosse un portale del nether, ma non so minimamente dove sia una stanza nascosta, un qualcosa. Boh, signori, non lo so. Non so che dirvi. Noi stiamo... Abbiamo aperto tutte le stanze, praticamente. Però sento qua gli alloi, purtroppo gli allei. Purtroppo non abbiamo come... Non so come farmeli... Farmi seguire da costoro. Detto questo, signori, che vi posso dire? Abbiamo conquistato tutta la magione. Facciamo un ultimo giro per sicurezza. Gli alloi sono spariti tutti. Gli omini veri, gli omini blu, sono spariti tutti. Non siamo riusciti a catturarne nemmeno uno. Sono spariti tutti? Sì. Li abbiamo liberati tutti, signori. Dopo un esploare iniziale... Mo se la sono date tutte a gambe. Sono spariti tutti. Quello è il villager senza naso. Ah no, sono tutti qua. Che stanno a fare il rave party. Il rave party qua dentro, signori. Perfetto. Io non so come cazzarola si portano queste a casa. Ma nel prossimo video, signori, andremo semplicemente a conquistare questa mappa. Quindi, se avete dei suggerimenti, scrivetemelo. E vediamo un attimino di riuscire... A... Di riuscire a... A portarcene magari qualcuno a casa. Ci proviamo, ci proviamo. Detto questo, signori, aspettate. Non mi piace così concludere il video così. Lo andremo a concludere nuovamente davanti all'entrata da dove tutto è iniziato, signori. Se riesco a trovare la porta di entrata, che sarebbe anche una cosa interessante, utile. Soprattutto perché dobbiamo chiudere il video. Se non sbaglio però dovremmo essere vicino perché di qua dovremmo girare a destra e dovremmo essere vicino alle scale. Può essere? Penso di sì, penso di no. Non lo so. Sì, ci siamo, signori. Ci siamo, ci siamo. Detto questo, l'avventura è iniziata da qua e l'avventura finisce qui per la maggiore, signori. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per il like, per i commenti, per i genitori e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao!